Con la ION, Peugeot è riuscita a coniugare al meglio l'abitabilità di una berlina con le prestazioni silenziose e a inquinamento zero di una elettrica pura. Le sue caratteristiche possono essere riassunte in zero rumore, zero emissioni, livello acustico esterno limitato al rumore di rotolamento degli pneumatici. Il passo di oltre due metri e mezzo e la carrozzeria sviluppata in altezza permettono inoltre a quattro adulti di prendere comodamente posto a bordo, mentre la lunghezza di meno di tre metri e mezzo ne fa una cittadina perfetta, anche grazie ad un diametro di sterzata di nove metri e mezzo. Con una accelerazione da elettrica e quindi coppia massima fin dalla partenza, ION ha una velocità di punta di 130 orari che si raggiungono in totale semplicità, semplicemente schiacciando il pedale acceleratore. L'autonomia di Peugeot ION nel ciclo standard europeo è di 150 km e la ricarica completa della batteria si effettua in sei ore, collegandosi ad una delle colonnine apposite, ma si può attaccare anche ad una presa di corrente dedicata nella propria abitazione. La tecnologia di Peugeot ION prevede un motore elettrico e un riduttore a rapporto unico, posizionati davanti all'asse posteriore e che muovono le ruote posteriori. Il motore è alimentato a corrente alternata trifase da 330 V, dall'invertitore a partire dalla corrente continua a 300 V della batteria di trazione. L'invertitore regola la corrente. La frequenza e la tensione sono in base allo sforzo applicato sul pedale dell'acceleratore. La progressività della risposta alla pressione esercitata sul pedale è stata studiata per ottenere un corretto dosaggio della potenza. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è molto compatto, ha una potenza massima di 64 cavalli ed è alimentato con batteria agli ioni di litio, poste al centro del veicolo. Il motore inoltre è reversibile. In fase di decelerazione genera corrente alternata, trasformata dall'invertitore in corrente continua per ricaricare la batteria di trazione.